Amici, oggi sono ritornato a Valle del Torano a piedi Monte Matesi e ho fatto un magico incontro. Ho incontrato la salamandra che vive protetta in queste zone. Sono degli animaletti innocui, bellissimi, e amare la natura significa proteggere anche questi esseri a vivere indisturbati nel proprio habitat. Grazie a tutti.